Dai, dai Andrea, dai! Ragazzi non ce la faccio. Dimostrando che abbiamo, un po', abbiamo voglia, ok? Quando riesco a farle le faccio, questa non riesco a farle, l'altra volta mi sono sentito male e non ci riesco. È un grande peccato. Anche Matteo sta facendo fatica, potrebbe anche lui fermarsi. Arianna vuoi intervenire tu? Vuoi provare a parlare con il tuo Andrea? Ok, Matteo riporta il conto. Amore, mi senti? Sì, sì, ti sento, ciao. Dai amore, provaci! Amore, sei lì, giocatela finché puoi. Ma non mi interessa, andrò in nomination, non mi interessa. L'altra volta sono stato male a fare sta prova, non mangio, mangio un cucchiaio di riso al giorno, due. Sta prova non riesco a farlo, mi sento le gambe fiacche, è inutile che tiro, sembra un cretino e non ci arrivo. Basta, cioè se so di perdere la peccata, bisogna anche saper perdere. No, sì, assolutamente, certo. Non riesco a farlo, però l'altra volta le stai mangiando un piatto di pasta. È inutile che mi rotto, faccio per terra, non riesco a farla sta prova. Punto. Va bene, allora stop la prova, stop la sfida. Complimenti Matteo, tu sei il vincitore della prima sfida e quindi ti sei guadagnato l'immunità. Grazie. 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 Grazie.